Un minuto che è tutto un po' improvvisato questa performance, quindi devo insegnare ai ragazzi una parte. Poi ovviamente sul ritornello cercate di cantarlo anche voi, il ritornello fa... A presto. Grazie a tutti. 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 Lo riattacchiamo, lo riattacchiamo. Grazie a tutti. Io ripartirei, Stefano, io ripartirei. Io ripartirei con... Ripartiamo? Ripartiamo? Bimbi, stasera si fa festa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La chitarra di Stefano, la chitarra di Stefano, la chitarra di Stefano Doncelli. Le percussioni di Francesco, la batteria di Francesco, la batteria di Francesco, la batteria di Andrea Ladini. Il basso di Mirko, il basso di Mirko Capecchi. Il basso di Mirko Capecchi. Grazie a tutti. Il buon riso di mirko, la batteria di Francesco, la batteria di Francesco, la batteria di Francesco. Grazie a tutti.